Billy, facciamo finta che questo punto estremo di questo affare che sto tenendo in mano, questo a sinistra, sia un pianeta fuori dal sistema solare, mettiamo che questo a destra sia la Terra. Ora, se ci fossero un anno luce di distanza, vuol dire che ci vorrebbero 400.000 anni più o meno per andare da questo pianeta fino alla Terra, quindi una cosa praticamente impossibile. Allora, gli scienziati hanno teorizzato che se si riuscisse a piegare lo spazio, allora queste distanze sarebbero immediatamente eliminate. E come si fa a piegare lo spazio? Ecco, questo vuol dire piegare lo spazio. Vedete? In un attimo, boom! Il pianeta fuori dal sistema solare arriva subito sulla Terra. Ora, facciamo finta che questo pianeta si chiami Ladispoli e questo pianeta rieti. Quindi, io batto le mani, così, e in un attimo mi ritrovo da Ladispoli a Viterbo. Ecco qua. Vedete com'è facile? E perché devo prendere la salaria, l'aurelia, poi la salaria, il raccordo anulare? Piego lo spazio. Sono arrivato in un attimo. Piego lo spazio e in un attimo, da Ladispoli arrivo a Rieti. Da! Vedete? Da Ladispoli arrivo a Rieti. Da Ladispoli arrivo a Rieti. È facile. È facile. Teoricamente è facile.